Non so chi di voi si affidi ancora al sistema pensionistico italiano, ma volevo darvi due dati. Secondo il nuovo simulatore IMSS per il calcolo delle pensioni, chi oggi ha 25 anni ed ha iniziato a lavorare da un anno, può aspettarsi di andare in pensione anticipata a 70 anni e 6 mesi. E secondo il Global Pension Index, su un totale di 44 paesi analizzati, ci troviamo al 32esimo posto a causa della bassissima sostenibilità del nostro sistema pensionistico. Grande problema che potrebbe incidere in termini di soldi su chi è vicino o è già in pensione. Solo questo è già un motivo per cui ognuno di noi dovrebbe guardarsi attorno, con soluzioni di risparmio e investimento e o prevenzione integrativa. Perciò oggi, dato tutte queste news, e dato che è passato esattamente un anno, voglio farvi un riepilogo di quello che è il progetto di risparmio e investimento che io ho messo in piedi per mio fratello, così da ovviare anche ai sicuri problemi che il sistema pensionistico avrà. Ed in questo momento, tra l'altro, questo pieno si trova in negativo, per cui è anche un momento molto interessante per fare una revisione. E potrà sembrare strano, ma nonostante questo non potremmo essere più che contenti. Ma prima di tutto partiamo con un riassunto, poi vi spiego perché siamo soddisfatti e perché oggi, o il prima possibile, è ancora il miglior momento per iniziare qualcosa del genere. Allora, esattamente un anno fa, per il suo diciottesimo, ho regalato un piano d'accumulo a mio fratello. Il tutto documentato e spiegato in questo video, se lo volete recuperare. Nella sostanza, dopo aver scelto un indice di riferimento, nel nostro caso l'MSCI World, aver trovato un ETF che lo replica e un broker dove comprare la commissioni vantaggiose, ho depositato nel conto di mio fratello 200 euro al mese fino ad ora e lui, attraverso Trade Republic, il broker che abbiamo scelto, che si è anche rivelato una delle piattaforme più semplici e sicure per gestire piani di risparmio, oltre ad essere senza commissioni, si è occupato di investirli ogni mese fino ad ora nell'ETF da noi selezionato. In realtà, dopo aver impostato il tutto, tutte queste operazioni sono state gestite automaticamente, con bonifici ed investimenti da noi impostati, che comunque ho spiegato nel video dell'anno scorso. Ma da allora, che è successo? Nell'ultimo anno, come abbiamo visto, i mercati non sono andati per nulla bene. Tra invasione russa, aumento del costo delle materie prime, inflazione con conseguente aumento dei tassi di interesse e disoccupazione, conclusione, in questo momento il nostro pieno d'accumulo è in perdita del 4,13%. È negativo di circa 100 euro su un capitale investito di 2400 euro nel corso dell'anno. Allora, perché dico che siamo contenti? Come prima cosa siamo contenti di aver investito con la strategia del cost averaging, tramite la quale ogni mese siamo andati ad acquistare una certa quantità dell'asset, nel nostro caso 200 euro, mediando così il prezzo d'ingresso. E possiamo dire di essere soddisfatti perché se confrontiamo questa strategia con la strategia del lump sum, cioè investire tutto il nostro capitale subito, ad ora, se avessimo optato per quella, ci troveremo in negativo del 6% circa, oltre ad aver dovuto sopportare i momenti dell'anno dove avremmo visto anche meno 16% sul nostro capitale. E la cosa non è scontata perché, come abbiamo visto su questo video, statisticamente è meglio investire tutto subito, perché avremo più capitale per più tempo che viene cullato all'interno dei mercati, che tendenzialmente, nel lungo termine, performano positivamente. Allo stesso tempo, però, il mercato, nelle sue oscillazioni, ci concede dei periodi di tempo nel quale il cost averaging performa meglio. Questi periodi spesso corrispondono con periodi di crisi, recessione o lateralizzazione dei mercati. Noi poi in realtà, con Giovanni, siamo stati forzati a questa strategia d'ingresso, perché non avevamo disponibili tutti quei soldi subito. E soprattutto, io volevo simulare il classico ragazzo, che riesce a mettere da parte 200 euro al mese da vari lavoretti. Oltre ad educare mio fratello di essere sopra, con i suoi soldi, ad uno strumento che si può muovere non solo in positivo. E la strategia del cost averaging, per noi forzata, è perfetta per i neofiti, perché i capitali che abbiamo in ballo, che mettiamo in ballo, aumentano graduatamente, facendoci abituare gradualmente a microcrolli o crolli. Per questo motivo sono contento che mio fratello abbia fatto fin da subito palestra in un anno non positivo, cosa che gli potrà servire a lungo termine, perché questi non saranno e non sono stati i primi negli ultimi momenti negativi. Quindi personalmente, sinceramente, è quasi meglio iniziare con un anno negativo. Ovviamente però bisogna avere gli strumenti per capire cosa sta succedendo, o essere guidati da qualcuno che abbia esperienza. Poi un altro motivo per cui siamo contenti è la scelta dell'indice e dell'ETF dove investire. Solitamente chi parte da neofita, e io ho fatto lo stesso all'epoca, dato che la letteratura sugli investimenti per l'80% arriva da suolo statunitense, il primo ETF che si va a comprare quasi sempre emula l'S&P 500, indice delle 500 aziende più capitalizzate negli Stati Uniti. E se andiamo a vedere i suoi rendimenti nell'ultimo anno, ha perso il 10% avendo dei periodi anche a meno 18, cifra inferiore all'indice da noi scelto. E qui ragazzi, ovvio, stiamo pur sempre parlando delle performance di un anno. Questo confronto sui due indici va rifatto in futuro. Comunque considerate che l'ETF da noi scelto è composto per più del 65% da aziende statunitensi. E lo avevamo scelto per avere un'esposizione non solo statunitense, ma globale. Senza comunque, ovviamente, rinunciare alle performance. Negli ultimi 10 anni, infatti, ha avuto un rendimento annualizzato dell'8,8%. E giusto perché vi rendiate conto materialmente di perché facciamo tutto questo. Se per ogni mese in cui, fino alla pensione, e ad ora per chi vuole andare in pensione anticipata, si parla di 41 anni, che con tutte le probabilità andranno ad aumentare, doveste scegliere questo tipo di piano d'accumulo ed oltre a versare i contributi, scegliate di investire lo stesso nostro capitale con la stessa nostra scelta di ETF. Se questo ETF dovesse mantenere i suoi rendimenti annualizzati detti prima, con 98.400 euro investiti nell'arco di 41 anni, vi ritrovereste alla fine con un capitale di circa 965.000 euro, a cui per carità andranno applicate tasse e sconto dell'interesse. Ma che comunque non rappresentano nulla di male. E è da ricordare che sarebbero soldi vostri, che potete spostare come e quando volete. Quindi detto questo, quali sono le conclusioni? Cosa faremo da qui in avanti? Noi continueremo questo piano d'accumulo con Trade Republic, che oltre ad avere commissioni gratuite con il piano di risparmio, non ci ha dato nessun problema. Poi se volete anche il tutorial di come impostarlo, recuperate il video dello scorso anno. Lì faccio proprio vedere il tutto passo passo. E se volete ve lo lascio linkato in descrizione. Tra l'altro se Trade Republic ha qualche promo o bonus, ve lo cerco e vi lascio il nostro link in vita a un amico sempre qui sotto in descrizione. E vi ringrazio se doveste utilizzarlo. Poi oltre a questo, un pensiero sensato che possiamo fare, dato che la strategia del cost averaging ha performato meglio nel corso dello scorso anno, e sapendo che statisticamente la strategia LAMSAM nel lungo termine performa meglio, potremmo valutare due cose. Uno, ora è ancora più probabile che gli investimenti LAMSAM ci riano risultati positivi anche ad orizzonti temporali più brevi. Due, essendo in negativo, potremmo pensare di calcare la mano. E dato che i prezzi sono a sconto, potremmo fare qualche entrata extra. Io però, in realtà, preferisco non fare nessuna delle due cose. Gli unici due motivi per cui aumento i miei ingressi sono Uno, il mio reddito annuale. Se aumenta, posso aumentare il mio ingresso mensile. Secondo, se per qualche motivo straordinario ho a disposizione una cifra extra o della liquidità extra. Ed il mercato sta perdendo più del 10% rispetto ai massimi degli ultimi sei mesi. Se non ci sono queste occasioni, preferisco aspettare. Poi, giusto per info, una cosa che potrebbe tornarvi utile in queste occasioni. Se mentre aspettate di capire come comportarvi, doveste lasciare i vostri soldi liquidi su Trade Republic, loro in questo momento vi riconoscono il 2% lord annuale di interessi su tutti i vostri soldi depositati non investiti. In ogni caso, dato che mio fratello Giovanni non si trova in nessuna di queste situazioni, semplicemente non cambiamo nulla e continuiamo con il piano dell'anno scorso. E con questo video, il messaggio che vorrei passasse, come detto l'anno scorso, è che a mio avviso ha poco senso stare qua a chiederci quando e quale sia il momento migliore per investire. Perché nessuno di noi è in grado di prevedere a breve termine l'andamento dei mercati. Sappiamo però che storicamente a lungo termine gli investitori sono sempre stati premiati. Noi cerchiamo di risparmiare ogni mese una cifra, anche piccola, che iniziamo ad investire ed accantonare con un orizzonte temporale di almeno 10 anni. E senza preoccuparci di ciò che succede nei mercati ora, continuiamo in perterriti ad investire ogni mese, ma sempre e solamente quello che possiamo permetterci di perdere, in modo tale da poter vivere sempre e comunque una vita sana, tranquilla e bilanciata. Detto questo, lasciate un mi piace, iscrivetevi se volete vedere tutti i futuri video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi.